Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovo video, si parla di cronaca stavolta dove ci sono state delle inondazioni incredibili in California che stanno facendo notizia, addirittura Biden che dichiara lo stato d'emergenza perché queste forti piogge degli ultimi giorni hanno causato veramente, cioè non solo inondazioni ma anche frane e danni di diversa natura. Sono moltissime le persone evacuate, 10.000 per l'esattezza, mentre 25.000 case sono rimaste di conseguenza subito, senza elettricità. Le tempeste che hanno sferzato la California negli ultimi giorni, provenienti dall'Oceano Pacifico Centrale, hanno incontrato un'area dello Stato americano già carica di neve e di acqua. Il Weather Prediction Center, il Servizio Meteorologico Nazionale, ha dichiarato emergenze per inondazioni improvvise, che corrisponde al livello 4 di 4 sulla scala delle precipitazioni nell'area. L'emergenza è causata principalmente dalle forti piogge hanno rapidamente sciolto il manto nevoso nella bassa Sierra Nevada. In risposta all'emergenza, la richiesta di emanazione dello Stato di emergenza avanzata nella serata di giovedì 9 marzo dal governatore, Gavin Newsom, è stata approvata dal presidente Joe Biden, permettendo così al governo di offrire assistenza allo Stato californiano e ai residenti e alle imprese di presentare richieste di risarcimento danni all'Agenzia federale per la gestione delle emergenze. In seguito allo scioglimento della neve sulla Sierra Nevada, le autorità hanno invitato i residenti a cercare un terreno più elevato dove sostare, prima di emettere ordini di evacuazione di emergenza già nella giornata di venerdì 10 marzo, quando in alcune aree della costa le precipitazioni hanno superato i 25 centimetri neanche, 24 ore. Nel primo pomeriggio di venerdì, infatti, circa 55.000 californiani non avevano elettricità e in quasi 10.000 avevano ricevuto l'ordine di evacuazione. Le condizioni meteorologiche stanno lentamente sfiancando la California, dove già a gennaio una serie di nove tempeste fluviali consecutive ha causato quasi due dozzine di morti, mentre a febbraio il pesante manto nevoso ha contribuito ad almeno 13 morti sui monti San Bernardino, dove molti residenti sono rimasti intrappolati per giorni dietro muri di neve. Le tempeste di questi giorni sono il decimo sistema meteorologico di questo tipo che ha colpito la California da Natale, che ha caratterizzato un inverno eccezionalmente umido e nevoso in uno stato che negli ultimi anni è stato afflitto, molto più da siccità e incendi che da precipitazioni. Rachel Montedion, la coordinatrice dei servizi di emergenza della Contea di San Luis Obispo, ha dichiarato che Da gennaio piove costantemente qui e quindi il nostro terreno è completamente saturo e le nostre insenature sono piene. Secondo gli esperti queste tempeste, sempre più forti e frequenti durante i lunghi periodi di siccità, sono sintomo del cambiamento climatico causato dall'uomo. Il passaggio da un estremo meteorologico all'altro rende inoltre complesso riuscire a gestire le risorse e al contempo ridurre al minimo i rischi per la popolazione. La California sta implementando tutti gli strumenti di cui disponiamo per proteggere le comunità dalle tempeste, implacabili e mortali che colpiscono il nostro stato, ha affermato Gavin Newsom. In queste condizioni pericolose e difficili, è fondamentale che i californiani rimangano vigili e seguano tutte le indicazioni dei soccorritori locali.